Musica 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 Che strana Immaginarla dietro una grata Musica Musica La cultura della città metropolitana di Messina 7 febbraio viene presentato per la prima volta quindi prima nazionale del film il pittore e la santa storia di Antonello da Messina e di sante Eustochia abbiamo qui presenti il professore Giordano e l'attore principale Antonello da Messina interpretato da Antonio Fermi professore lei è alla scrittura ha composto la sceneggiatura può parlarci presentarci un film dove la regia si Antonello che sante Eustochia vivevano nella stessa zona e naturalmente c'è una differenza soltanto di quattro anni che Antonello nasce in 1430 forse pure un tenero amore ma può dare Diamo la parola all'attore principale ad Antonello Antonio Fermi attore messinese di origine messinese che lavora molto a Roma e che viene dalla scuola di Vittorio Gasman Qual è stata la tua esperienza su questo set interpretare un pittore importante come questo? Essendo appunto un attore messinese mi chiamo Antonio anch'io e poi ho letto anche l'ottima sceneggiatura del professore Giordano vestire i panni di Antonello da Messina non è come vestire i panni di Amleto o del malato immaginario Prova attoriale e anche psicologica anche nuova e un approfondimento psicologico non indifferente qui con noi Rosy Trapa e l'attrice l'attrice Giovanna Scurco che sono due artisti del film Il pittore e la sede Il mio ruolo è di Santa Eustochia di Santa Eustochia e quindi Smeralda Galafato io sono la nonna la nonna di Antonello e devo dire che è stata un'esperienza per me nuova in quanto io vengo dal teatro La voce fuoricampo in questo momento che avete ascoltato è di Viaggio Cardia il regista del film il regista del film il mio ruolo regista e produttore abbiamo nel film 30 attori poi abbiamo 12 comparse sempre in investiti del tempo del Quattrocento altri dieci personaggi e persone del Direttore artistico Giuseppe Maiolino e non che attore perché all'improvviso coinvolto anche in questa bella parte rappresento un pittore napoletano famoso così dicono dove Antonello ha fatto scuola e devo dire che è stata una bella esperienza il resto è stato detto dal professore Giordano Io sono Lucia Di Gennaro e collaboro e ho collaborato alla produzione del film il pittore La Santa per me è stata una collaborazione in attesa mi chiamo Antonina Ria e ho partecipato nel ruolo dell'amico di Antonello cioè nel ruolo di Antonello da piccolo per me è stata un'emozione molto forte Ci volete dire cosa avete combinato cosa avete fatto durante le riprese? Diciamo che io sono stato il compagno di Antonello il compagno di gioco insieme ai miei fratelli è stata una bella esperienza Tu come ti chiami? Io mi chiamo Filippo Scalfi Gabriele Giovanni Scalfi Bravissima Grazie Mi chiamo Giada e nel ruolo nel film facevo Catarinella Catarinella e sarebbe? La figlia di Giovanna Bravissima Che strana immaginarla dietro una grata Sono Stonker Voglio realizzare un disegno del vostro peso Grazie Grazie